Al Tour con Ivan Basso Il vostro collega scomparso tragicamente durante il Giro d'Italia, era il miglior amico di Tyler Farrar e il velocista statunitense ha dedicato proprio a Weiland il successo. È un ricordo immagino ancora vivo in gruppo? Ma sicuramente è stata una tragedia e siamo ancora tutti sconvolti per quello che è accaduto a Wouter e io credo che è normale che dopo la vittoria il pensiero vada al ragazzo e alla famiglia del ragazzo. Dicevamo ieri di quanto siano impegnative le tappe che sulla carta sembrano semplici di questa prima settimana del Tour de France, oggi anche per te un piccolo trabocchetto sul Ponte de Saint-Nazaire. Ma c'è stata una caduta prima del ponte, ho dovuto mettere piede a terra e quindi sono rimasto per 2-3 km nella seconda parte del gruppo ma con i miei compagni ci siamo riportati subito davanti. Eravamo ancora lontani dall'arrivo quindi non ero preoccupato. È chiaro che questo è il Tour, ogni giorno ci sono dei pericoli, domani è una tappa molto difficile, bisogna stare molto 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 attenti. Altro tema forte di questi primi giorni è il tema Alberto Contador, in ritardo in classifica, fischiato su molte strade del Tour, si è rotto un po' l'idiglio tra la corsa gialla e il campionissimo spagnolo oppure qual è la sensazione che hai dall'interno del gruppo? Ma io credo che è normale Contador, l'atleta più forte, quando l'atleta è nettamente il favorito può avere una parte di pubblico contro, però Alberto è un atleta molto forte e io credo che alla fine il pubblico del ciclismo applaude il migliore. Io sono convinto che lui sarà sicuramente tra i più forti in questo Tour e quindi alla fine anche i fischi diventeranno applausi. Domani, come ricordavi, arrivo a Mur de Bretagne, tappa che da sempre hai reputato particolarmente insidiosa, che cosa ti preoccupa in particolare? È una tappa molto difficile, una tappa molto vallonata, una tappa con sicuramente una zona molto ventosa, quindi ci sarà molto vento anche domani e un arrivo non proprio adatto alle mie caratteristiche, sono un strappo di due chilometri molto impegnativo, quindi è una giornata dove mi dovrò difendere. Sapevo di soffrire in questa prima settimana, resto comunque ottimista e fiducioso perché nella seconda parte del Tour potete vedere il miglior bus. E allora Ivan, ti aspettiamo sempre qui a Radio 24 domani sera dopo il GR24 delle 19 e ci racconterai un po' proprio questa tappa sul Mur de Bretagne. Va bene, buona serata a tutti!